Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2? Coraggio ragazzi, non siate timidi, l'importante è provarci. Sì, client? Da, dici. Ok, adesso vorrei una risposta da uno che non sia un totale deficiente. Nessuno, coraggio, non siate timidi. Credo di saperlo io, signor Gerson. Zitto, con la chione. Ehi, non ci preverai, ebreo del cazzo. Ehi, che hai detto la parolaccia con la C? Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, con la chione del cazzo. Kyle! Ma che cazzo dici? Ehi! Hai appena ridetto cazzo! Stanley! Pippe! Candy! Che male c'è? Non fa male a nessuno, cazzo, cazzarola, stacca cazzo! Che ne diresti se ti mandassi dal direttore della scuola? E lei che ne direbbe se la mandassi a fare in culo, signor Gerson? Come? Che cosa hai detto? Mi scusi, mi scusi, in realtà quello che ho detto era... Che ne direbbe se la mandassi a fare in culo, signor Gerson? E dai, porco zio! Devo confessare ragazzi che mi avete veramente deluso, Pito, dovreste vergognarvi! Ho già chiamato le vostre madri, ma io... Ho chiamato mia mamma! Esatto! Oh no, cazzo! Signor McGee, posso fare una domanda? Sentiamo! Parca ragazzo, perché ti hai smerdato? Già! Esigo sapere dove avete sentito questa orripilante oscenità, Pito! In giro! Le abbiamo sentite qualche volta dal signor Gerson! Già! Ragazzi, dubito fortemente che il signor Gerson abbia detto... Bappati, merda di pinguino, brutto speleologo di culi roti! Pito! Grazie per essere venute tempestivamente! Questo non è proprio da te, Stan! Cosa ha detto mio figlio, signor McGee? Ha detto la parallaccia con la M? No, molto, molto peggio! Quello con la C? Beh, ecco una breve lista delle cose che dicono, Pito! Oh, buon Gesù! Che caspita è un soltino? O vuoi quando metti le gambe dietro la testa e ti fai leccare il culo? Giovanotto, dirai immediatamente al signor McGee dove hai sentito queste frasi raccapriccianti! Io... io... Non possiamo dirlo, abbiamo fatto un giuramento segretissimo! Nei film di Trombino e Pompadour! Prato! Falti un mistero, io voglio smammare! Trombino e Pompadour? Quei canadesi? Ma chi sono Trombino e Pompadour? Trombino e Pompadour sono due attori del Canada, straprivi di talento! Solo parole sconce e comicità da Gaby Letto! Dovrò spedire una lettera per avvertire tutti i genitori prima che altri vedano Trombino e Pompadour! Cazzo, l'hanno visto tutti! Eric! Non riesco a trattenermi, quel film ha perderti il mio fegile cervellino!